Facciamo la confusione sessuale. A proposito, qui vedi il diffusore. Praticamente questi diffusori che sono stati appena messi, questi emanano due tipologie di feromone. Praticamente questo diffusore emette nell'aria il profumo di femmina, di tignola e tignoletta. Qui arriva il maschio di questa farfalla, sente il profumo di femmina e dice cavoli, qua ce n'è per tutti. In realtà non riesce ad avere l'accoppiamento perché è confuso sessualmente. Cioè tutto questo aspetto mette in confusione il maschio, non ha l'accoppiamento con la femmina e la femmina non va a deporre l'uovo nell'acino. È quello il guaio per la viticoltura. Evitiamo di trattare contro questi due insetti, queste due farfalline, usando i feromoni.